Dopo la sosta natalizia, martedì 6 gennaio 2015, ritorna su Studio 95 e rete unificate su Telemelito e Teleboa Malina, Pink Magazine con uno speciale sull'Andrangheta, con Giovanna Battaglia e Francesca Martino. Ospite e studio il luogotenente Cosimo Spremeli ci illustrerà meglio i particolari contenuti del suo libro Andrangheta, martedì 6 gennaio ore 10, per intervenire in diretta 0965 78 15 02.